La sua carriera inizia nel 2000, quando arriva seconda nel concorso di Miss Mondo 2000 a Londra, ottenendo il titolo di Miss Queen Europe 2000. Debutta in televisione nella primavera del 2001 partecipando al programma 125 milioni di kites. De, condotto da Adriano Celentano su Rai 1, e successivamente è nel cast di Buona Domenica, condotto da Maurizio Costanzo, con il ruolo di Microfonina. Nel 2002 arriva la grande popolarità. Giorgia prende il posto di Elisabetta Canalis a striscia la notizia, vincendo la prima edizione del programma Veline di Venendo, in coppia con la bionda Elena Barolo. La nuova velina mora di striscia la notizia per la stagione televisiva 2002-2003. La coppia ebbe molto successo e fu confermata anche per la stagione 2003-2004. Nella stagione televisiva 2004-05 Valletta, assieme a Francesca Cillemi, dello show I Raccomandati, condotto da Carlo Conti su Rai 1. In questo varietà era Valletta ma anche conduttrice e ballerina. Una showgirl a tutto tondo. Nel 2005 posa nuda per il calendario di Max del 2006. Nella stagione televisiva 2005-2006 recita anche nella serie TV Carabinieri. Nel giugno 2005 ha condotto lo speciale estivo del programma musicale CD Live, insieme ad Alvin, su Rai 2, e verrà scelta per affiancarlo anche nelle ultime due edizioni dello show. Fino a giugno del 2007. Anche a CD Live, Giorgia si esibirà in diversi balletti con il corpo di ballo del Mass, l'Accademia di Danza Music Arts and Show di Milano. Dal 3 al 13 luglio 2007 conduce TRL On Tour. Da Bari, al fianco di Alessandro Cattelan. Programma trasmesso in diretta da MTV Italia. Nel 2008 recita, incinta di sua figlia Sofia. Da coprotagonista, nel ruolo della bella vicina di casa. Nel sit show di improvvisazione teatrale. Buona la prima, con All and France. Trasmesso da Italia 1. Dopo la maternità, nel 2011 partecipa come naufraga dell'ottava edizione del reality show di Rai 2 l'Isola dei famosi. Arrivando in finale e venendo proclamata vincitrice con il 76% dei voti. Dopo l'Isola, in estate, le viene affidata la conduzione del Varietà Paperissima Sprint. Con Vittorio Brumotti e il Gabibbo. Nello stesso anno interpreta se stessa nel cinepanettone Vacanze di Natale a Cortina con Christian, De Sica e Sabrina Ferilli. Il 23 dicembre 2012 conduce assieme ai moderni lo speciale Onice della sesta edizione di X Factor. In onda su Sky 1 il 26 dicembre. Dove Chiara Gagliazzo e gli altri finalisti del famoso talent show si sono esibiti dal vivo. Accompagnando le evoluzioni dei più grandi pattinatori su ghiaccio. Dal 17 giugno 2013 torna a condurre Paperissima Sprint per tutta l'estate. Accanto a Vittorio Brumotti e al Gabibbo. Conduce il programma anche nell'estate del 2014. Dal 9 giugno, sempre affiancata da Vittorio Brumotti e il Gabibbo. Nell'estate 2015 è la presentatrice della sedicesima edizione del festival show. Il tour di Radio Birichina e Radio Bella End Monella che, dopo sette date nel Nord-Est Italia, si è concluso all'Arena di Verona il 9 settembre. Con grandi big della musica italiana ed internazionale come ospiti. Le serate sono state trasmesse televisivamente dal 19 luglio ogni domenica su Hagon Channel e sulla rete locale Antenna 3 Nord-Est. L'anno successivo viene scelta come madrina del Giro d'Italia 2016. Il 23 giugno 2016 partecipa come giudice a Italian Pro Surfer. Talent show sul mondo del surf condotto dalle Donatella su Italia 1.